Allora, quello che ho sentito dire, questa deve essere la Valpiana, guardate che struttura di conoide, di tritico, ha lo sbocco nella Val Codera, aspettate eh, non è solo questo, c'è anche quello, mamma mia, è enorme, è enorme, per rendervi conto di quanto scarica nei momenti di piena il torrente della Valpiana, vi faccio notare che io mi trovo su un sentiero che rispetto al letto del fiume è due metri qui in alto, ma se valutiamo anche l'erosione del fiume, praticamente questi depositi su cui io sono fanno parte delle conoide stesse della Valpiana, quindi fate le dovute proporzioni, guardate adesso in cima, adesso trovo con lo zoom, che spettacolo con le cime, mamma mia, che figata, andiamo avanti, guarda che doveva arrivare laggiù in fondo, eh, sì, questo là, non si vede ancora niente, mi dice che ridere papà.